sognare si può buongiorno siamo tornate ciao a tutti buongiorno 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 siamo qui con la nostra dottoressa stefania rubatti psicologa psicoterapeuta e parliamo di un argomento di nuovo di quelli che dopo un po che si ascolta magari un po di questa roba ce lo anch'io no sai che ogni volta ce lo diciamo come mai abbiamo di tutto un po di tutto un po perché siamo così siamo esseri complessi siamo esseri complessi e l'argomento è l'indecisione cronica e quindi intanto benvenuta ben arrivata un salutone facciamo che farlo subito a tutti i nostri ascoltatori di segnare si può a tutti i nostri amici dell'angolo del confronto e quindi Gabriella Rita tutti 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 quanti e tutti i nostri amici di Radio Moncalieri www.radiomoncalieri.net che ci ascolteranno in replica e naturalmente a Gianni Ricci e tutto lo staff che rendono tutto questo possibile naturalmente grazie e a questo punto entriamo nel merito di questo argomento l'indecisione cronica e come mai allora che cos'è per iniziare va allora l'indecisione cronica è l'abitudine spesso inconscia di evitare di prendere decisioni ecco attenzione la parola cronica esatto quella è la differenza nel senso che a tutti può capitare di essere in difficoltà nel momento in cui bisogna prendere una decisione fare una scelta e prendere una decisione può non essere semplice in certe situazioni però indecisione si parla di indecisione cronica quando questa difficoltà è costante e continua quindi sempre c'è il problema è si presenta costantemente la difficoltà a prendere decisioni e può riguardare sia le scelte più insignificanti tipo cosa scegliere al ristorante o che fin guardare sia le scelte più importanti tipo cambiare lavoro cambiare casa e dipende no ci sono persone che magari hanno difficoltà proprio a prendere qualunque tipo di decisione persone che invece sono sicure in ambito magari lavorativo e decisamente bloccate a prendere decisioni per esempio nella vita personale però si parla di decisione cronica quando questo problema si presenta regolarmente e costantemente non in una situazione particolare che quello può succedere a tutti magari ci sono delle situazioni un pochino più problematiche quello ci può stare magari a un cambio di un lavoro qualcosa che riguarda qualcosa di importante nella vita ci sta che uno magari stia lì a pensarci chiaro però in questo caso è proprio un procrastinare un rimandare continuamente il momento della decisione perché ci si fa a salire dai dubbi dalle paure paura di avere dei rimpianti paura di non fare bene poi i tipi di paure li vediamo li vediamo poi si vediamo poi però esatto è proprio è proprio un tratto comportamentale e anche questo una differenza una cosa importante da sottolineare perché appunto è un problema comportamentale ma non è un tratto della personalità quindi questo significa che si può lavorare su questa cosa no bene è un problema comportamentale che può essere modificato non è un tratto della personalità su quale diventa è davvero poi magari più difficile intervenire certo e come si manifesta questa come si fa a capire che si soffre diciamo di come la di questo problema allora innanzitutto come abbiamo detto è un con è un avere continui problemi difficoltà a prendere a prendere le decisioni no quindi appunto come abbiamo detto il procrastinare continuamente il momento della scelta un altro segnale è la riflessione eccessiva quindi il pensare e ripensare mille volte a tutte le varie opzioni tutte le varie possibilità tutto quello che potrebbe succedere cercare di raccogliere più informazioni possibili pensare ripensare ripensare fino allo sfinimento e fino soprattutto alla passività perché poi va a finire a capore di pensare uno pensa pensa e non agisce e ci hai già spiegato quanto sia invece importante l'azione infatti una delle conseguenze appunto della riflessione eccessiva è proprio la passività no oppure la razionalizzazione no quindi l'affidarsi alla logica anche per arrivare magari delle conclusioni per le quali la logica può può servire ma non è sufficiente no per quanto riguarda le dinamiche affettive emotive affidarsi troppo alla logica e alla razionalizzazione non è esattamente limitativo quindi un altro segnale appunto come abbiamo detto è cercare di valutare tutte le variabili possibili immaginabili ovviamente con scarsi risultati perché è impossibile andare a certo valutare al cento per cento una situazione si fa si hanno difficoltà a svolgere attività da soli a prendersi responsabilità no perché si ha paura appunto di sbagliare seppure avere rimpianti e si è molto sensibili magari al alle critiche e ai rifiuti no quindi per paura di andare incontro a queste cose uno penser penserimugina e ancora pensi eccetera eccetera ed è appunto una si parla anche di perfezionismo no in questi casi quindi il voler perfezionismo patologico perché qui si parliamo sempre di estremi no quindi il voler essere perfetti no e questo è un altro segnale del che appartiene alla all'indeciso cronico no e anche perché la perfezione lo sappiamo non esiste no quindi se noi se noi puntiamo a quella non faremo mai nulla veramente certo certo perché il punto è che la la decisione e poi rappresenta poi l'affermazione del sé no il farsi valere e per molte per alcune persone questo può creare delle difficoltà no cioè il farsi il farsi valere l'affermare la propria persona per qualcuno può essere difficile allora il rischio è per esempio nelle relazioni d'amore sentimentali il rischio per esempio di trovare dei partner che invece sono decisionisti speculari a noi e che prendono per noi le decisioni la nostra vita in mano e quindi rischiamo di perdere un po' quella che è la nostra quella che è la nostra essenza no e perché si cade nell'indecisione in amore per esempio no per paura può essere per paura magari di ferire l'altra persona perché non si ha abbastanza autoconsapevolezza di quello che si vuole e di quello che non si vuole per paura di fallire di fare di fare scelte sbagliate e anche per il senso di colpa il senso di colpa spinge spesso magari a non saper scegliere no per esempio quando si hanno due possibilità no il momento in cui ne scegli una il senso di colpa ti spinge verso l'altra e quindi c'è una continua oscillazione e poi cosa succede che si ci si lascia trasportare dagli eventi non si prende in mano si prende e quindi questo è questo un altro rischio noi non essere padroni delle proprie della propria vita perché non si è in grado di scegliere e di decidere per paura per paura e con le scarpe mi succede non so mai perdonami ogni tanto uno sdramatizzano e ci sono tanti modi per non decidere il primo è procrastinare come abbiamo letto prima quando sai che cosa devi fare ma non lo riesci a fare e allora rimandi 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 ma un altro un altro modo è evadere attivamente cioè il famoso mettere la testa sotto la sabbia no quindi consapevoli fare finta che non ci sia nessuna decisione da prendere che non ci sia non ci uno scelte uno mette la testa sotto la sabbia e va avanti non è successo niente va bene così un altro modo per non prendere decisioni è l'oblio conveniente si chiama l'oblio conveniente che significa cioè è quando uno sembra non essere consapevole che non sta decidendo ma poi in realtà se si va a scavare si capisce che ci sono tante resistenze no però apparentemente sembra che sembra non essere consapevole di questo suo limite di questa sua difficoltà e poi un'altra un'altra modalità e la so è la decisione con clausola di salvaguardia no allora che cosa vuol dire il prendere decisioni che però siano sempre rivedibili e modificabili quindi mai fare delle scelte definitive no ma rimanere sempre un po sul vago prendere le decisioni che però dopo cinque minuti potrebbero essere cambiate quindi tenersi sempre un po tutte le porte aperte praticamente effettivamente anche qui si decidi ma non decidi perché poi alla fine sono quelle con la clausola di salvaguardia come dire ma io adesso decido così però non è detto che poi magari possa cambiare idea diciamo che in ognuna c'è una sorta di ragionamento anche molto profondo se vogliamo no non è vero che non ce ne accorgiamo hai ragione perché in un modo o nell'altro tu da una parte ti salvi un po se si decido però se si pensa bene e se si va ad analizzare bene ci rendiamo conto che sono tutte delle scappatoie sono tutte più o meno conscie ma sono tutte delle scappatoie certo ma dove arriva questa questa paura perché esatto perché abbiamo perché esatto ci troviamo magari alle volte non alle volte perché delle persone si trovano in questa situazione cronica perché poi punto allora beh ovviamente dobbiamo risalire alle figure primarie di attaccamento cioè i genitori o chi per loro insomma eccoci qua che pareva che perché se si è cresciuti con dei genitori che hanno messo in atto un comportamento eccessivamente intrusivo non hanno permesso uno sviluppo del sé di un del sé abbastanza differenziato per cosa vuol dire intrusivo cioè nel senso troppo troppo presenti troppo che per esempio punitivi nei confronti di qualunque magari gesto di indipendenza quando invece ogni ogni comportamento diciamo in linea del bambino viene viene premiato e ogni invece gesto di qualche ogni barlume di indipendenza viene subito viene viene punito no per cui il bambino cresce associando il concetto di indipendenza al concetto di colpa di sensore di colpa no e quindi di conseguenza crescerà avendo difficoltà a esprimere se stesso e quindi ad assumersi le sue responsabilità e quindi a a prendere decisioni necessariamente certo un altro motivo invece riguarda il senso del dell'auto efficacia no che quindi che può essere stata minata magari da emarginazione bullismo umiliazioni no e quindi magari certe esperienze di vita vissute che ti hanno portato a ad avere paura anche di esporti e di esprimere le tue le tue idee esatto esatto quindi chiaramente anche a prendere una decisione che ti porti in qualche direzione voglio salutare brunato mi dei gianni filippo toscano pino tafferuglie grazie a tutti quanti voi per essere per essere qui con noi hai detto una parola che è tornata nelle insomma di cui si è discusso no nell'ultimo periodo perché è stata detta in in situazioni secondo me veramente poco felici ed è il discorso dell'umiliazione no l'umiliazione non è mai no una soluzione e non è mai correttiva assolutamente no no e quindi insomma anche su questo no perché giustamente ne abbiamo parlato più volte in affrontando diversi argomenti anche sfiorando insomma però effettivamente se ci crea in sicurezza ecco che immediatamente abbiamo capito che non può essere una soluzione neanche quella anzi fa tanti danni esatto magari poi un giorno parliamo anche di quel discorso lì torniamo alle torniamo invece alle cause torniamo alle cause cioè a quello che sta dietro alla paura di prendere decisioni esatto un'altra un'altra causa è sicuramente la paura delle conseguenze no dell'eventuale decisione presa no quindi se faccio questo l'idea sia anticipatoria no che blocca sul nascere ogni ogni iniziativa per paura del di dei rischi che si potrebbero presentare e per paura del fallimento no e quindi blocca qualunque azione certo poi c'è la paura di fare la scelta sbagliata e qui apriamo la parentesi sul sul sull'idea di di dare troppo peso alle conseguenze delle nostre scelte no nel senso che a volte ci ci carichiamo troppo di questo peso qua perché se ci pensiamo bene raramente le scelte che prendiamo sono irreversibili sì sì anche se quindi anche dare troppo peso alle conseguenze può bloccare inutilmente perché comunque ci si può eventualmente sempre tornare sui propri passi rivedere correggere il tiro insomma sì non è così è difficile che una scelta sia che una scelta sia irreversibile anche perché tra l'altro teniamo conto che noi siamo in continuo cambiamento certo per cui quello che scegliamo oggi che va bene oggi non possiamo sapere se andrà bene anche domani e questo non lo potremmo mai sapere neanche se ci arrovegliamo il cervello con mille pensieri facciamo elenchi di pro e contro chiediamo consigli leggiamo di tutto e di più non lo potremmo mai sapere no perché comunque siamo in continuo cambiamento quindi dobbiamo scegliere per quello che è il nostro presente non proiettarci è troppo nel futuro perché comunque ogni scelta che abbiamo fatto se ci pensiamo ha contribuito a farci diventare le persone che siamo nel bene nel male con certo quindi piuttosto che stare fermi è meglio è meglio agire poi ci vuole anche la fiducia in se stessi che ci fa dire vabbè se sbaglio troverò il modo di rimediare una soluzione troverò una soluzione no quindi avere anche la fiducia di poter eventualmente rimediare una scelta sbagliata perché può che succedere esatto e non è così categorico no assolutamente no non è così categoria come quando poi ci si rende conto che effettivamente abbiamo preso un granchio dobbiamo pensare che abbiamo anche gli strumenti per poterci rimedio e per rimediare un'altra paura che c'è dietro è la non paura un'altra ambizione che c'è dietro è quella di voler fare la scelta migliore in assoluto e anche questa è un'altra bella pretesa uno ci può provare e questo riflette appunto come dicevamo prima il perfezionismo no quindi il appunto ricercare tante informazioni razionalizzare il più possibile fino a quella che si definisce la paralisi per analisi quindi analizzare talmente tanto la situazione che si finisce per rimanere paralizzati bloccati bloccati dalle troppe informazioni c'era la ricerca delle delle della ricerca delle troppe informazioni certo altra cosa è invece il voler fare la scelta giusta no e quindi l'aspettare che ci arrivi l'illuminazione la sensazione la convinzione che quella è la strada giusta da percorrere cosa che non succederà mai per avere proprio la fulgurazione la sicurezza al cento per cento non potremmo mai averla no quindi dobbiamo imparare a tollerare anche l'incertezza certo e questo è un'altra cosa questa è un'altra cosa importante appunto tollerare l'incertezza e avere la consapevolezza che non si può avere il controllo di tutto e questo è un argomento quindi la maniera del controllo anche si contribuisce alla difficoltà nel prendere decisioni no e sì perché se vuoi controllare effettivamente qualsiasi cosa qualsiasi conseguenza questo non abbiamo la palla di vetro quindi esattamente non riusciamo non riusciamo assolutamente a uscirne da questo punto di vista a saperlo con anticipo filippo ci dice ci augura il suo buon pomeriggio buongiorno buon pomeriggio a tutti e a noi e ti e dice nel particolare c'è la nostra fantastica dottoressa grazie stefania grazie filippo ed è ed è importante questa cosa che dicevi in effetti no questo fatto di voler necessariamente avere il controllo quando in realtà noi controllo non possiamo effettivamente averlo ne abbiamo già parlato è effettivamente che la maniera del controllo va ad interferire in tante dinamiche esatto questo è solo una delle tante quanto è difficile pensare di poter tenere tutto sotto controllo anche perché molte cose in realtà non dipendono da noi e quindi però le decisioni potremmo prenderle e invece non le prendiamo invece non le prendiamo perché abbiamo la presunzione di poter controllare tutto e non siamo in grado di tollerare le incertezze esatto scusami e filippo ci dice convengo siamo ciò che siamo stati e ciò che abbiamo fatto credo che è soprattutto che è soprattutto nelle nostre azioni nelle nostre scelte che determinano chi siamo effettivamente questo è più un pensiero forse filosofico per certi versi però credo che si possa anche ricondurre a quello che stavi dicendo tu in effetti condivido condivido prego scusa mi fa piacere così coinvolgere i nostri ascoltatori quando in effetti ci danno la loro interpretazione di tutti questi argomenti che poi di fatto ci troviamo a vivere a condividere in una maniera piuttosto che in un altro ogni momento certo comunque tornando a quello che c'è dietro un'altra un'altra paura che che blocca è la paura di perdersi qualcosa e anche questo la paura del rimpianto ci porta magari a voler mantenere aperte tutte le opzioni e quindi non prendere una decisione e questo è anche questo è complicato questo è complicato perché comunque ogni decisione comporta una rinuncia qualunque decisione da quello che decidiamo di mangiare a quello al lavoro che decidiamo di fare ogni decisione comporta una rinuncia anche il non decidere sì questo è fondamentale anche questo bisogna ricordarselo perché almeno se io decido da qualche parte vado se non decido rinuncio è un po comune rinunciare a tutto il non decidere però è vero quello che dicevi che in qualche modo è una decisione pure quella cioè che non decidere con decidere una decisione anche qui ti fa rinunciare a lo stesso ad alcune opzioni sì diciamo che come prima cosa in assoluto sapere cioè conoscersi conoscere se stessi quelli che sono i nostri obiettivi quelle che sono per noi le cose importanti infatti una conseguenza di questo è l'essere essere essere selettivi cioè rendersi conto che non si può avere tutto e che neanche tutto è necessario no quindi sapere quello che sapere quello che vogliamo nel presente nel momento che stiamo vivendo no certo ovviamente bisogna analizzare le varie alternative ma non troppo come dicevamo no perché comunque non si può avere informa arrivare a avere informazione il sentire anche di deludere gli altri di passare per immaturi egoisti no queste sono tutte conseguenze dell'inazione soprattutto secondo me la quella fondamentale è proprio quella di rimanere bloccati perché comunque se agisci magari fallisci è vero no può capitare per carità certo però se non agisci sicuramente non otterrai mai quello che quello che vuoi esatto poi magari bisognerebbe capire esattamente cosa vuoi come primo passo quello è il punto no quello è il punto capire esattamente quello che si vuole infatti questo ne parliamo poi quando diamo i consigli su come gestirla viene cominciare a darli perché ci manca veramente poco alla fine e allora per quello che ti lanciamo verso allora partiamo subito abbiamo ancora forse qualcosa da dire sulle cause un po' velocemente mi piace innanzitutto ricordare che comunque nessuna scelta renderà la nostra vita perfetta e senza delusioni e senza sofferenze quindi la scelta giusta con la G maiuscola non esiste quindi avremo ogni scelta a lati positivi e negativi ma comunque ogni scelta è un'occasione di crescita è un'occasione di conoscenza è un'occasione di apprendimento quindi comunque non ci salva la vita però ci aiuta a conoscerle le cose in più di noi stessi e del mondo perché è vero che l'ignoto fa paura a tutti sì, inevitabilmente certo però comunque non potremmo mai sapere in anticipo qual è la scelta giusta quindi bisogna assolutamente non cadere nella trappola della paura perché l'indecisione cronica è un po' la vittoria della paura sulla vita ecco, a me piace dare questa definizione qua la vittoria della paura sulla vita eh, non lasciamo glielo fare, no? che è un po' triste, ecco sì, sì, sì senti, consigliaci passiamo ai consigli su come gestire se ci accorgiamo, se dovessimo accorgersi che comunque siamo su quella strada cosa ci consigli? allora, come dicevi tu, giustamente la prima cosa è chiarire i propri obiettivi, i propri valori no? questa è la prima cosa perché così facendo ogni scelta sarà in linea con quello che siamo e con quello che vogliamo e questo ci metterà un po' al riparo da eventuali rimpianti no? sulla famosa frase e chissà se avessi fatto così o se avessi fatto cosà no? se noi sappiamo quello che vogliamo siamo un po' più al riparo da eventuali rimpianti sì, diciamo che come prima cosa in assoluto sapere cioè conoscersi conoscere se stessi quelli che sono i nostri obiettivi quelle che sono per noi le cose importanti infatti una conseguenza di questo è l'essere selettivi cioè rendersi conto che non si può avere tutto e che neanche tutto è necessario quindi sapere quello che vogliamo nel presente nel momento che stiamo vivendo certo ovviamente bisogna analizzare le varie alternative ma non troppo come dicevamo perché comunque non si può arrivare a avere informazioni al 100% allenarsi allenarsi a prendere le decisioni allenarsi ad agire con la consapevolezza che comunque anche le conseguenze eventuali negative che ci saranno avremo modo comunque di gestirle certo e poi allenare anche la nostra capacità di persuasione quindi imparare a motivare in maniera calma e serena però ferma e decisa quelle che sono le nostre ragioni l'assertività avevamo fatto già una puntata sull'assertività quindi imparare a esprimere i propri bisogni i propri desideri le proprie scelte in maniera sicura e assertiva guardare in faccia la paura questo è anche molto importante quindi non demonizzarla e non scansarla con degli stratagemmi però anche giocare magari a immaginare gli scenari peggiori le conseguenze più funeste che potrebbero accadere proprio per allenare il nostro pensiero a gestire queste emozioni guardare in faccia la paura quindi diciamo che dobbiamo necessariamente prendere in mano le nostre paure attraversarle come più volte tu ci hai detto senti dobbiamo salutarci il nostro tempo è finito come ti dicevo dove possiamo trovarti? allora sulla pagina facebook Stefania Rubatti su quella professionale che chiedi alla mente e al telefono che è 347 435 4333 benissimo allora l'appuntamento è alla prossima puntata per scoprire qual è l'argomento che andremo a trattare questa volta e se avete come sempre dei suggerimenti siano sempre benvenuti e naturalmente se volete fare delle domande potete contattare la nostra dottoressa Stefania Rubatti sia sui social che come abbiamo detto con i propri contatti io ti ringrazio grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori alla prossima grazie ciao ciao